Entriamo in diretta, stiamo vedendo Stivoli che sta pensando se chiamare il race dell'avversario Lo inquadriamo, sono 6 di gialle, quindi 30.000, 2 rosse, 32.000 Stivoli va all-in All-in di Stivoli sul race dell'avversario All-in di circa 220 Vediamo le fish inquadrate come vedete nella telecamera 250, quindi è un all-in bello consistente Anche perché il giocatore ne aveva messo 32.000 in race Vediamo lo stack dell'altro giocatore Ha tante fish, però guardate Ricordiamo che le arancine sotto sono da 25.000 10.000 le blu, 5.000 le gialle, 1.000 le rosse Il giocatore non è italiano Quindi noi facciamo il tifo per il nostro Siamo campanilistici e tifiamo per l'Italia perché vogliamo un italiano che vinca la picca Momento delicato naturalmente, ci si giocano dei bei soldi Il primo premio supera il 1.250.000 euro Non stiamo parlando di cifre basse E Folda fa vedere un asso E Stivoli si aggiudica il piatto